Chiuso in crescente il 2019 con la vittoria sulla capolista con Corezzo e il secondo posto in classifica, il gabbiano top team Mantova è pronto a tornare in campo sabato 11 gennaio nel campionato della Serie B di Volley contro lo stadion Mirandola, a fare il punto della situazione l'allenatore Gian Antonio Guaresi. Abbiamo finito l'anno come meglio non si poteva, siamo stati decisamente brillanti, specialmente nell'ultima partita. Ci aspettano tre partite complicate. Prima Mirandola, una squadra che conosciamo benissimo, con cui abbiamo fatto perennemente delle battaglie. Però ci avviciniamo a questa partita con ottimismo. Secondo me se riusciamo a mettere insieme le cose che abbiamo fatto molto bene con Corezzo, cioè relazione, battuto, muro, difesa, potrebbe essere una partita divertente. Siamo partiti in questo campionato che non avevamo l'idea di dove eravamo. Secondo me adesso siamo convinti che noi possiamo lottare per il vertice, che poi non vuol dire vincere il campionato, ma vuol dire poter lottare per il vertice.